andiamo a vedere il mio portafoglio investimento e vediamo tutte le ultime operazioni per fare anche un punto perché poi vediamo anche una strategia complicata nelle ultime operazioni che secondo me è abbastanza interessante allora su obiettivo residenza il 15 marzo ho avuto l'autocall del b1 che è un certificato su cui avevo switchato da un altro certificato che era il ki8 su barri gold avevo fatto uno switch to improve era un certificato che è stato per diverse settimane anche ben sotto la pari era stato sui 95 94 euro è andato in autocall a 101 e 25 io ho ricevuto quattro premi sulla posizione per 5 euro totale di premi il profit è 4,5 euro in circa tre mesi rendimento 4,7 17,2 anno analizzato che è sicuramente un ottimo rendimento ho sostituito la posizione del v1 con il 450 che è un certificato callable con effetto airbag di efg su intesa unigrate bpm stellantis con barriera di protezione del capitale al 50 per cento strike e barriera premio al 60 per cento quindi l'effetto airbag non ha lo stesso livello di barriera quindi non è al 50 ma è al 60 così come la barriera premio il premio è effettivamente alto cioè 13,33 euro al mese su un valore nominale di mille euro un 16 per cento annualizzato 15,996 per cento quindi secondo me parecchio interessante il prezzo è alto oggi quindi sta quasi sul 103 per cento del valore nominale abbiamo adesso sia unigrate banco bpm ben sopra la pari così come intesa stellantis leggermente sotto e appunto essendo un certificato callable può essere richiamato solo a discrezione dell'emittente e il richiamo è possibile a partire da luglio io l'ho acquistato circa sui 100,2 per cento e appunto adesso siamo in alto qui ho riportato sul prezzo di acquisto attuale cioè 1027,65 euro il rendimento attuale annualizzato quindi se viene richiamato subito il rendimento non è così allettante considerando che oggi ci sono dei certificati assolutamente interessanti è più interessante se non viene richiamato perché a quel punto il rendimento sarebbe del 15 per cento annualizzato quindi da da monitorare magari perché potrebbe anche riscendere se dovesse salire la volatilità su questi sottostanti qui c'è l'analisi di scenario che secondo me è abbastanza interessante proprio perché in questo caso c'è la protezione del capitale entro una discesa fino al meno 50 per cento ma si ha l'effetto airbag con strike al 60 quindi a differenza di quei certificati che hanno lo strike al 50 ovviamente la perdita è più ampia perché non viene calcolata dal livello di barriera ma viene calcolata un livello leggermente più alto tuttavia come vediamo anche qui se abbiamo ricevuto un po' di premi quindi se il meno 55 non avviene subito e chiaramente questi sono un po' le date di valutazione da escludere o la perdita è bassa o comunque non c'è perdita quindi secondo me abbastanza interessante anche il certificato io qui ho evidenziato i diversi scenari quindi perdita fino almeno 90 per cento con ricezione dei premi fino ai 35 premi il trentaseiesimo ovviamente se violiamo la barriera non lo prendiamo il 19 marzo ho fatto un'operazione che poi analizziamo anche il perché interessante sull'uno e uno era un'operazione difensiva in allocazione tattica per puntare all'autocall di questo certificato è un'operazione che ho fatto simile su l'utre che è andato poi in autocall purtroppo ieri sera perché perché è un certificato che io ho acquistato alla data di valutazione ad un prezzo che era pari a 101 e 40 in quel caso che cosa succedeva alla data di valutazione se anni fosse risalita del 5 per cento in quella singola giornata di negoziazione tra l'altro anni ha fatto circa un 2 per cento in quella singola giornata quindi mi ha fatto un po' temere la strategia l'idea era se anni sale a quel punto il certificato va in autocall paga 101 e 38 euro quindi perdo due centesimi ma se anni non sale io è come se acquistassi a 100,02 euro ma mi vado a prendere un certificato interessante che può andare chiaramente già in autocall il prossimo mese dove vado a guadagnare minimo 1,36 euro nel singolo mese quindi minimo un 15 per cento annualizzato infatti io quando ho acquistato avevamo questa situazione quindi banco bpm a più 22 intesa più 36 unicredit a più 48 eni a meno 6 e 98 però appunto per essere un certificato solo su eni con barriera al 55 era particolarmente interessante perché ovviamente l'autocall discendente e pagava un premio dell'1,38 al mese che è un premio comunque elevato e quindi il 19 marzo così come oggi non si trova un certificato solo su eni con barriera 55 dove posso prendere l'1,38 al mese quindi era particolarmente interessante ovviamente non è andato in autocall il 19 marzo e più 5 in una singola giornata è difficile che eni lo faccia così senza ragioni e oggi la situazione è che appunto abbiamo eni a meno 0,50 tra l'altro penso leggermente più alta perché oggi è in salita e il certificato probabilmente andrà in autocall il 19 aprile se eni dovesse riscendere chiaramente non andrà subito in autocall banco bpm intesa unicredit hanno continuato la loro salita quindi sono ancora più distanti dai livelli di barriera rimane solo eni e vedremo se andrà in autocall in ogni caso perché è interessante l'operazione perché sono andata ad acquistare alla data di valutazione ad un prezzo basso cioè praticamente sul valore nominale quindi sulla pari un certificato con i sottostanti più volatili molto sopra la pari e un sottostante che è tranquillissimo direi con rendimento alto e che quindi magari appunto con un mese riesco a fare un rendimento parecchio interessante io mi sono resa conto che questa strategia io l'ho applicata diverse volte nelle ultime settimane l'ho applicata di più perché è una strategia che si presta molto ad essere applicata in una fase di mercato diciamo in rialzo e in generale di sottostanti a prezzi alti l'ho applicata parecchio in passato e me ne sono resa conto andando ad analizzare le operazioni antecedenti ma effettivamente la strategia non ha un nome quindi l'ho chiamata perché secondo me rispecchia effettivamente l'essenza della strategia la strategia cometa perché almeno ce la ricordiamo come cometa e secondo me è più facile individuare anche l'operazione e in che cosa consiste consiste fondamentalmente nel trovare un certificato che ha un ottimo connubio rischio rendimento in un punto nel tempo cioè quando passa la cometa e che effettivamente è difficile da trovare cioè come le comete noi dobbiamo guardare il cielo per vedere il passaggio lo stesso vale per questa tipologia di certificati cioè non sono facili da trovare cioè generalmente è molto complesso trovare dei certificati di questo tipo e riuscire a comprarli nel momento giusto però sono interessanti perché come le comete sono bellissime quando passano anche questi certificati ci permettono di guadagnare un rendimento alto in una fase di mercato in cui quel rendimento non si può trovare quindi ci permettono effettivamente di avere un ottimo connubio rischio rendimento in un momento di mercato invece in cui è più difficile investire i certificati cometa generalmente sono caratterizzati da resilienza e permettono di guadagnare in brevissimo tempo se le condizioni di mercato sono stabili quindi vediamo le diverse caratteristiche come si applica questa tipologia di strategia come le comete non sono stelle anche i certificati cometa non sono tra virgolette dei certificati stella cioè non sono le cosiddette perle del mercato io anche in particolari articoli dello scorso anno alcuni certificati definivo proprio le perle del mercato perché perché erano quei certificati dove avevamo un connubio rischio rendimento talmente buono che era facilmente riconoscibile che quello era un certificato particolarmente interessante ora la cometa generalmente non è questo tipo di certificato cioè è un certificato che quando viene emesso ha un buon connubio rischio rendimento è competitivo fin dall'emissione quindi non è un certificato malandato è un buon certificato però non ha niente di che cioè non è la perla che in un secondo possiamo capire ok questo rende un rischio rendimento ottimale bellissimo no è un certificato interessante competitivo però non è che andremo all in su quel certificato proprio perché non è così speciale ecco ha un livello di rendimento che remunera correttamente il rischio dall'altro lato qual è la caratteristica che noi dobbiamo guardare il cielo e la cometa deve emergere nel cielo stellato quindi se per esempio io sto analizzando il certificato alla ricerca della perla del mercato ma vedo che tutti i certificati migliori sono costosi e poco redditizi effettivamente potrebbe emergere questo certificato cometa perché magari all'emissione si era buono ma non era spettacolare ma in un contesto in cui il rendimento di quel livello non si può fare su un particolare sottostante su un particolare basket quel certificato diventa la nuova perla del mercato che non lo era appunto nella fase di emissione questo può accadere per diversi motivi perché per esempio il rischio è diminuito quindi i sottostanti più rischiosi sono cresciuti e il worst off è uno o più sottostanti magari molto poco rischiosi ma il rendimento del certificato è rimasto intatto o quasi rispetto all'emissione cioè se posso guadagnare lo stesso ma il livello di rischio è molto più basso allora è particolarmente interessante perché questo succede solo sui certificati non perle del mercato perché le del mercato generalmente sono talmente buone che raramente quindi veramente una vita da investitore proprio raro che si trovino dei prezzi bassi perché perché generalmente se si trovano a dei prezzi bassi o c'è una fortissima volatilità nel mercato quindi c'è anche una rischiosità e quindi è possibile anche una violazione della barriera ci può essere magari un errore dell'emittente altrimenti è raro che un certificato che sia una perla del mercato residente si trovi ad un rendimento buono se ha perso una parte di rischio cioè se i sottostanti sono saliti generalmente non si trova un rendimento buono cioè è raro ci possono stare diciamo degli esempi nel tempo ma è molto raro ecco inoltre come per le comete per vedere le condizioni atmosferiche devono essere ideali lo stesso vale per i certificati cometa perché il mercato deve essere in una fase di stabilità i sottostanti devono essere in una fase di rialzo comunque di tranquillità affinché la strategia posso dare immediatamente i suoi frutti perché se io vado ad acquistare in una giornata speciale particolare in cui quel certificato ha un rischio rendimento ottimale cioè mi offre un bel rendimento nonostante il rischio sia molto più basso è chiaro che non deve essere un momento di fortissima volatilità perché magari per ovviamente ottenere quel rendimento ci posso mettere dei mesi se non degli anni mentre se siamo in una fase di mercato tranquilla o comunque di rialzo io quel rendimento magari lo posso fare proprio già dal giorno successivo quindi non è una strategia che si può applicare in fase di forte volatilità o del mercato o del sottostante il timing è tutto perché perché come per la cometa che passa in un momento specifico quindi se se io sto girata in un particolare momento e passa la cometa non la vedo lo stesso vale per questa tipologia di certificati cioè c'è un momento specifico in cui questi certificati hanno quel livello di rendimento e quindi mantengono un livello alto di rendimento anche se il rischio è sceso sensibilmente rispetto all'emissione quindi il certificato deve essere acquistato in quel momento specifico perché generalmente poi il prezzo cambia molto velocemente per esempio alla rivalutazione o qualche giorno prima quindi quando abbiamo per esempio una probabilità di autocall e però l'autocall magari non avviene quindi quelle sono quelle fasi in cui il certificato può essere acquistato ma veramente durano magari un giorno o anche poche ore e quindi si ha una piccola finestra di tempo in cui effettuare l'operazione una volta svanita quella finestra di tempo non è più conveniente provare a guardare la cometa perché è passata quindi non è più conveniente neanche acquistare il certificato perché a quel punto magari abbiamo un connubio rischio rendimento diverso dove il certificato costa di più e chiaramente rende di meno e quindi non abbiamo più una remunerazione adeguata per il livello di rischio e non lo possiamo più definire una cometa. Ho preso due esempi da delle ultime operazioni perché proprio sono recentissime quindi l'avete visto diciamo in diretta. Un esempio era appunto l'1e1 che era un ottimo certificato all'emissione come connubio rischio rendimento ma ce ne erano anche altri con caratteristiche forse migliori quindi alcuni avevano maggiore probabilità di autocall io me lo ricordo proprio perché l'avevo analizzato ai tempi barriere più basse con rendimento simile premio sensibilmente più elevato quindi era un buon certificato ottimo connubio rischio rendimento ma non una perla del mercato ecco io che cosa ho fatto cioè perché ho trovato poi l'1e1 perché me lo l'unico modo cioè l'unico modo per trovare questa tipologia di operazioni è effettivamente quando si fanno le analisi selezionare quei certificati che riteniamo ottimi cioè che diciamo bello questo certificato forse oggi è un po' troppo costoso ce lo mettiamo in watch list e lo teniamo monitorato in modo tale che magari c'è una giornata specifica in cui quel certificato è particolarmente interessante in questo caso i sottostanti più volati erano cresciuti parecchio intesa unicredit bpm ed era rimasto solo il sottostante tranquillo eni quindi il certificato aveva una resilienza di prezzo ed era sempre molto costoso e poco interessante però alla data di valutazione di marzo è diventato una cometa perché il suo prezzo di acquisto era vicino al suo valore di rimborso in caso di autocall ma l'autocall era improbabile quindi si acquistava praticamente alla pari con rendimento più alto rispetto ai certificati che erano migliori all'emissione ma a quel punto non erano più comparabili proprio perché avevano dei prezzi alti alcuni appunto erano anche andati in autocall quindi quel certificato era particolarmente interessante in quel contesto di mercato cioè in una fase in cui il rischio era diminuito sensibilmente ma il rendimento era rimasto intatto lo stesso per l'U3 in cavalcare la volatilità perché questo era un ottimo certificato all'emissione era appunto un certificato barry gold parantire coinbase ma in realtà il rendimento rifletteva il forte rischio tra l'altro il prezzo si muoveva anche molto velocemente io l'ho acquistato addirittura a 96 e 10 i sottostanti più volatili coinbase e palantire sono cresciuti parecchio erano ampiamente sopra la pari e rimane come worst of solo un sottostante barry gold il rendimento elevato del 24 per cento su un sottostante poco volatile come barry gold lo rendeva particolarmente interessante e in realtà il giorno prima della data di valutazione ma anche alcuni giorni prima quindi il certificato era più o meno su questo livello di prezzo per un po di giorni è diventato una cometa proprio perché si acquistava 102 se andava in autocall ma barry gold doveva fare circa un più 16 per cento addirittura chiaramente il certificato rimborsava 102 quindi perdita guadagno zero ma se appunto barry gold non faceva questo più 16 per cento il certificato garantiva almeno un altro 2 per cento e tra l'altro andava in autocall e quindi esattamente un 2 per cento quindi si acquistava praticamente la pari però con rendimento elevatissimo considerando il livello di rischio cioè qui c'era solo barry gold praticamente con barriera 50 per cento secondo me appunto era il certificato perfetto quindi pro e contro e anche quando utilizzare questa strategia in un contesto in cui i mercati sono saliti e le barriere sono sempre più alte la strategia cometa ci permette di investire ad alto rendimento con rischio contenuto tuttavia generalmente una strategia di allocazione tattica cioè il rendimento è elevato generalmente alle ore contate perché perché generalmente quelle azioni tendono poi a risalire o comunque il certificato tende ad andare in autocall proprio perché è una cometa e il prezzo magari si mantiene un pochino più basso anche perché ci sono alte probabilità di autocall e questo è proprio dovuto tecnicamente a questo fatto la cometa quindi passa molto velocemente ed è possibile investire a questo alto rendimento in realtà per poco tempo quindi non sono strategie da cassettista sono più strategie di allocazione tattica la strategia richiede l'osservazione di mercati watch list aggiornate analisi giornaliere quindi ha senso applicarla ai momenti di mercato in cui i rendimenti scarseggiano o in cui i mercati sono alti e potrebbero correggere particolarmente rilevante secondo me in questa fase come strategia sono difficili da trovare quindi come dicevo bisogna mettere tanti certificati in watch list e monitorarli direi giornalmente con free finance pro dato che stiamo inserendo anche alcuni parametri secondo me interessanti un po più facile fare questa tipologia di analisi proprio perché si può andare a guardare in analisi scenario e capire come si muovono nei diversi scenari quanto manca per raggiungere la prossima barriera autocollo la barriera autocollo più bassa quindi ci sono una serie di cose che si possono fare con free finance pro che aiutano proprio a selezionare queste strategie tra le ultime operazioni il 21 marzo e non potete dire che non mi sono mossa nell'ultimo mese ho acquistato il 587 che è il certificato di cui avevamo parlato anche nell'ultimo webinar sempre in live che è il cash collect collable con effetto airbag sull'ubt che rende un 10 per cento annualizzato 8,33 euro al mese il premio minimo rimborso elevato 1049,98 euro e che se non viene richiamato prima scade a marzo del 2026 tra l'altro l'ho acquistato diciamo anche con un secondo ingresso quindi poi lo vediamo e approfondiamo dopo invece un acquisto che ho fatto secondo me molto interessante particolare direi quindi è una struttura effettivamente particolare rispetto ai soliti cash collect che acquisto è questa del 644 che ho acquistato a 995 tra l'altro adesso sta più alto quindi è salito di circa 10 euro che è un certificato con sottostante obbligazionario cioè il sottostante è il bund tedesco con scadenza 2052 cedola 0% che è presente anche nel mio portafoglio lunghissima scadenza perché è interessante questo fix cash collect perché è un fix cash collect convertible su questo bond che paga un premio fisso incondizionato del 9 per cento anno pagato mensilmente quindi 7,5 euro al mese e ha una barriera capitale del 100 per cento quindi come funziona è molto facile cioè durante la vita del prodotto io prendo questi 7,5 euro al mese 9 per cento anno a scadenza ci sono due scenari o il bond è salito oltre al livello di strike in particolare oltre 51,2752 per cento in quel caso io ricevo l'ultima cedola e 100 euro di valore nominale se il bond non è salito io ricevo l'ultima cedola più mi vado a prendere il bond cioè mi viene convertito il bond fondamentalmente ricevo il sottostante e se ci sono delle frazioni di bond da dovermi pagare mi vengono pagate come valore di liquidazione quindi è interessante per chi per chi comprerebbe il bond io l'ho comprato quindi chiaramente per me era particolarmente interessante ma è interessante anche per chi vuole investire nel breve con comunque un rendimento alto per puntare appunto ad avere una cedola elevata qui è un 9 per cento anno incondizionato e appunto se il bond dovesse scendere io personalmente lo comprerei quindi assolutamente per me va bene bloccare questo 9 per cento anno in più dall'altro lato secondo me è interessante per chi non crede che il taglio dei tassi sia veloce o comunque chi pensa che oggi i bond siano troppo costosi in particolare questo bond perché magari intanto mi prendo il 9 per cento e poi mi vado a comprare o a prendere direttamente il bond perché penso che da qui alla scadenza del certificato che è un anno il bond non salirà tantissimo o almeno salirà meno del 9 per cento quindi per chi non crede in un forte rimbalzo secondo me questo è particolarmente interessante come certificato io l'ho comprato in realtà per due motivi quindi da un lato ovviamente per una gestione della liquidità e dall'altro anche per bilanciare il portafoglio in bond quindi così ho una posizione più corta che mi permette di beneficiare di questo 9 per cento anno io ho una view di forte rialzo di questo bond dato che l'ho comprato proprio quindi nel mio caso l'idea che il bond salirà io mi prenderò semplicemente questo 9 per cento anno l'ho acquistato anche sotto la pari quindi secondo me era assolutamente interessante il rendimento qui appunto vediamo anche l'analisi di scenario fatta da ched lab ovviamente questo è un bond quindi si si muove ma ecco si può muovere massimo di un meno 20 per cento se dovesse tornare ai minimi quindi più o meno saremo su questo livello e qui vediamo appunto a fronte di una variazione del sottostante che va dal più 90 al meno 90 per cento che cosa succede al prezzo del bond il valore lineare quindi cosa avrei se acquistassi il bond direttamente e il valore a scadenza del mio certificato nei diversi scenari con relativo profit sia in percentuale che in euro quindi qui è riportato tutto sul valore di acquisto del certificato a 995 95 quindi oggi ovviamente cambia un pochino il rendimento considerando che il prezzo è più alto ho fatto poi uno switch to improve dallo 025 al 587 in due giorni in realtà ho venduto lo 025 e comprato il 587 perché perché dato che avevo inserito questo certificato di leontech all'interno del portafoglio ho deciso di ridurre l'esposizione lato leontech e andare a despormi su ifg anche perché tra l'altro è chiaro dai prezzi sia dello 025 che del 587 ma anche da tutti gli altri certificati costruiti sull'ubt che la probabilità di violazione dalla barriera effettivamente è molto bassa ed è sempre più bassa nel tempo proprio perché i prezzi effettivamente sono saliti parecchio quindi io che cosa ho fatto sono andata a garantirmi un minimo rimborso più alto e ho ridotto il rischio emittente perché secondo me era interessante perché appunto il prezzo era molto simile lo 025 appunto questo era il prezzo attuale purtroppo se fosse stato richiamato avrebbe avuto un rendimento negativo quindi non era una cosa ottimale e tra l'altro il rendimento se andiamo a vedere non era poi così alto era un po sceso proprio perché il prezzo era elevato e quindi ho fatto lo switch in modo tale da aumentare immediatamente il rendimento e darmi un minimo rendimento comunque più elevato diciamo minimo rimborso più elevato e quindi questo era un effettivo switch to improve perché ha migliorato la posizione in portafoglio e invece ho acquistato e direi purtroppo ieri perché in realtà era meglio oggi il 262 che è un certificato secondo me particolarmente interessante quindi se dovessimo avvicinarci verso la data di autocolle potrebbe essere uno di quei certificati cometa in realtà che è un certificato su apple alfabet bank of america jp morgan con barriera premio capitale al 60 per cento e barriera autocolle fissa al 100 per cento il premio di per sé è basso 0 84 euro al mese un 10 per cento annualizzato ma bank of america e jp morgan sono ampiamente sopra strike jp morgan più 18 44 bank of america più 18 alfabet è a più 8 apple è a meno 10 quindi in realtà è praticamente un certificato su apple o almeno apple e alfabet che rende comunque un 10 per cento anno se consideriamo i rendimenti medi sul mercato che troviamo un certificato su apple o su alfabet rende meno del 7 per cento cioè 6 6 6 4 6 6 io ho riportato anche gli icing tra l'altro il rendimento più basso rispetto a quello che ho riportato io ho riportato proprio il flusso cedolare e l'autocolle in questo caso attiva da ottobre quindi il minimo rimborso 105 88 io l'ho fatto proprio perché è molto vicino all'autocolle il 145 quindi inizio a fiancargli un'altra posizione in questo caso su apple 145 a worst of bank of america riportato anche il processo di selezione dell'operazione in particolare io quello che ho fatto ho fatto un'analisi utilizzando sia c'è della pro che free finance pro che la riporto anche per farvi capire come utilizzare due piattaforme quindi da un lato ho selezionato tutti cash collect che mi interessavano cioè su alcuni sottostanti specifici con cedla pro mi sono andata su cedla pro ho scaricato il file excel con tutti i cash collect e mi sono andata a selezionare i certificati che avevano worst of alphabet apple american express e bank of america li ho filtrati e ho eliminato quelli con coupon troppo basso quindi sotto il 9 per cento con buffer dalla barriera premio capitale troppo basso cioè sotto il 30 per cento che secondo me è il minimo comunque su questi sottostanti e con altri sottostanti nel basket che non volevo in portafoglio quindi c'erano per esempio dei certificati con zalando adidas quelli li ho eliminati ho inserito la selezione sul free finance pro quindi ho creato un nuovo portafoglio che ho chiamato appunto selezione affiancamento 145 ho utilizzato la procedura guidata quindi ho inserito semplicemente solo gli isin e poi ho fatto avanti 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 e in un secondo si crea il portafoglio e sono andata ad analizzare il rendimento residuo che è questo qui sia in percentuale che a livello annualizzato dove in percentuale o a livello annualizzato era troppo basso ho eliminato quei sottostanti quindi avevo una selezione ridotta a quel punto sono andata a cliccare sui diversi isin e sono andata a vedere esattamente le diverse pagine su cedla pro a quel punto erano talmente pochi certificati che li potevo analizzare facilmente quindi ho eliminato per esempio alcuni che avevano sì dei sottostanti buoni ma magari non troppo sopra la pari quindi ovviamente magari c'era un certificato per esempio con invidia che rendeva poco e che appunto invidia era su strike chiaramente più rischioso quindi l'ho eliminato sono rimasta con la selezione finale e qui sono andata ad analizzare altri parametri quindi io qui ho riportato proprio un esempio dei parametri che ho analizzato io dove si può vedere per esempio il buffer dalla prossima barriera autocall o dalla barriera autocall più bassa il prezzo la data di scadenza slash autocall cioè la data di scadenza effettiva il valore futuro il pnl residuo qui si può vedere sia in percentuale che a livello annualizzato che cosa succede a fronte di un più 20 per cento del sottostante worst off qual è il worst off la frequenza della cedola insomma tutti i parametri che possono essere più utili e poi ho selezionato l'ultimo certificato che poi è quello che ho acquistato e qui appunto vediamo che secondo me è rilevante da capire che su questo certificato che appunto paga lo 0,84% al mese può andare in autocall a partire da ottobre questo è il rimborso nel caso di autocall qui è il profit sia in percentuale che in euro e il rendimento annualizzato la cosa interessante da notare è il buffer barriera degli altri sottostanti quindi meno 50 per cento su bank of america jp morgan meno 44 su alfabet meno 33 su apple quindi il vero worst off qui è apple le performance del portafoglio sono in rialzo qui è calcolato su la chiusura di ieri quindi 25 e 32 il portafoglio quindi siamo un 10 e 44 annualizzato più 8 e 38 cavalcare la volatilità 3 e 45 annualizzato più 36 e 10 invece obiettivo residenza più 14 e 89 annualizzato quindi portafoglio rialzo qui ho tratto alcune immagini dalla piattaforma per far vedere anche più o meno l'esposizione in particolare sul rischio emittente proprio perché ho ridotto facendo lo switch da lo 0,25 al 587 l'esposizione su leontech qui vediamo che in realtà di esposizione su emittenti più rischiosi io in realtà ce l'ho solo su marex dove ho i due certificati su indici leontech appunto con gli ultimi certificati qui non ci sono i bonus cap quindi non c'è il 9 e 10 e banca acros è ovviamente una piccola percentuale di smart etn tutto il resto sono invece emittenti bassissimo rischio di credito tra l'altro qui è solo il portafoglio in certificati non c'è il portafoglio in bond che invece ha solo emittenti tranquillissimi quindi questo è un altro elemento da considerare però dato che mi era stato chiesto sul rischio emittente anche come erano i miei pesi qui lo vediamo sul valore di mark to market altra cosa interessante secondo me andare a vedere i prossimi autocall quindi qui sempre sui valori di ieri poi bank of america è scesa leggermente quindi il buffer è un pochino più alto qui sono i prossimi autocall del portafoglio quindi 145 3 u 3 appunto è andato in autocall ieri l'uno e uno potrebbe andare in autocall se anni rimane ai valori attuali e lo 0 17 che invece va in autocall a maggio quindi questi sono quelli che andranno in autocall e poi c'è appunto la scadenza del vecchissimo prodotto con ups worst off come fare questa schermata che sembra così complessa e difficile in realtà ci vuole un secondo cioè se si va nella sezione del mio portafoglio nella piattaforma free finance pro si seleziona per isin accanto a tutte le posizioni si selezionano le variabili che si preferisce io ho selezionato appunto queste variabili l'unica che va selezionata è buffer dalla prossima barriera autocall a quel punto compare questa bellissima spuntina facendo cerca per in barriere per buffer dalla prossima barriera autocall e si seleziona il buffer dalla prossima barriera autocall che si vuole quindi per esempio entro il 10 per cento secondo me i certificati possono andare in autocall seleziono il buffer e poi posso ordinare o per buffer quindi per buffer dalla prossima barriera autocall come ho fatto io in questo caso o per prossima data di autocall e quindi vedere chi va in autocall prima lo posso vedere anche con altri grafici ma secondo me questo è proprio il modo più semplice per vedere le prossime posizioni che vanno in autocall quindi per chi si chiede oggi ho un portafoglio in certificati non so chi andrà in autocall quando andrà in autocall cioè questa è la schermata più facile con cui vedere che cosa succede sul proprio portafoglio qui appunto ci abbiamo messo più a dirlo che a farlo ci vogliono veramente 10 secondi e vediamo anche delle statistiche perché dato che abbiamo free finance pro è molto più facile fare le statistiche di portafoglio quindi qui ho messo appunto il riepilogo degli icing e delle operazioni questo ha aggiornato ieri sera quindi non c'è l'u3 tutte le operazioni del 2024 perché in realtà mi sono mossa abbastanza quindi effettivamente qui vediamo il profit delle diverse operazioni l'unica operazione negativa è quella di switch su coinbase nio e tesla dove abbiamo worst of nio che appunto è leggermente sopra barriera qui ci sono appunto le operazioni chiuse con il profit anche realizzato dalle operazioni chiuse quindi gennaio e febbraio tutte le operazioni sono in gain tranne questa e invece queste marzo aprile appunto alcune sono aperte da pochissimo però comunque i rendimenti sono tutti positivi quindi è un ottimo primo trimestre del 2024 anche per il portafoglio incertificati se andiamo a vedere invece la parte bond io mi sono mossa il 20 marzo in cui ho acquistato il tx 63 cioè il trentennale americano e l'austria 2120 ma soprattutto il giorno successivo io ho praticamente composto il 90 per cento del mio portafoglio lunghissima scadenza europeo con austria 2120 germania 2052 francia 2072 slovenia 2081 magari lo vediamo qui più o meno quali sono i pesi quindi sulla chiusura di ieri ho per il 31 1,5 per cento francia 2072 quindi se consideriamo solo il portafoglio bond a lunghissima scadenza 30,2 per cento austria 2120 30,3 germania 8 per cento slovenia è quella a cui ho dedicato meno peso quindi rimangono in portafoglio ovviamente i due treasury l'u25 l'x 63 l'x 63 gli ultimi due acquisti erano molto corposi quindi oltre a quello del 20 marzo ho acquistato anche il 2 aprile quindi quando l'ho visto vicino il 95 sono entrata su questo quindi senza alcuna paura avevo degli altri ingressi più sotto che non sono passati però va bene così era particolarmente interessante secondo me la giornata del 2 aprile in cui entrare sia sui bond lunghissimi europei che sui treasury l'ho scritto anche su obiettivo resilienza secondo me quella era la giornata perfetta per ora almeno poi magari ci saranno altre giornate perfette come come abbiamo visto ci sono parecchie giornate in cui si possono fare ingressi poi alla fine all'interno di un anno se andiamo a vedere sul valore nominale investito a livello di treasury ho per il 55 per cento il trentennale per il 45 per cento il ventennale in realtà sto valutando di ribilanciare il portafoglio anche vendendo una parte del ventennale cioè ridurre un po al ventennale puntare soprattutto sul trentennale quindi anche se diversifica un po' meno personalmente considerando che il rimbalzo ci sarà preferisco andare sul trentennale anche perché comunque i rendimenti sono interessanti in questa fase e rimangono poi ovviamente i bond collable sui bond collable secondo me in particolare il 485 il 285 i prezzi sono saliti parecchio quindi effettivamente la collability sembra abbastanza vicina sia sul 285 che sul 485 sul 285 secondo me è proprio l'ultima fase in cui è possibile fare gli ingressi poi dopo come il 485 diventerà molto costoso se le condizioni rimangono quelle attuali dato che avevo una domanda specifica su questo da diverse settimane ho selezionato anche i maxi coupon per posticipare le minus ho fatto questa bellissima tabella con tutti i maxi coupon in pochissimi secondi quindi sono molto contenta di poter utilizzare free finance pro per tutte queste cose perché perché appunto se vogliamo per esempio posticipare le minus abbiamo l'esigenza di posticipare le minus quello che possiamo fare utilizzare sempre free finance pro e c'è la pro e analizzare tutti i maxi coupon che ci sono sul mercato e capire quali possono essere un po più interessanti quindi questi sono tutti i maxi coupon che oggi sono quotati che hanno un maxi premio superiore al 10 per cento e successivo a ieri dove la data di valutazione è dopo ieri quindi da oggi in poi che ho realizzato appunto con free finance pro e c'è della pro c'era un solo isine non supportato che sarà supportato a breve che è questo certificato che quindi vi invito a guardare poi anche da soli qui trovate i diversi isine con i diversi sottostanti l'emittente il worst of la performance per raggiungere la barriera quindi meno 34 significa il sottostante peggiore inditex in questo caso ci deve fare un meno 34 per cento per raggiungere la barriera di protezione del capitale quant'è il prossimo coupon che è appunto un maxi coupon qui in percentuale lo potete mettere anche in euro il buffer dalla prossima barriera premio se è meno 100 per cento significa che il premio è incondizionato se invece è diverso dal meno 100 per cento il premio è condizionato e quello appunto è il livello di buffer dalla barriera premio prossima data in cui è possibile l'autocall qual è il prezzo in ask cioè il prezzo di acquisto e qual è il rendimento residuo quindi se io compro qual è effettivamente il rendimento residuo annualizzato di questo certificato ai valori attuali questo secondo me può essere anche un qualcosa da guardare perché chiaramente dove c'è più rendimento generalmente c'è anche maggiore rischio ma magari tra dei certificati più o meno simili si può scegliere quello che ha un rendimento annualizzato più alto perché terrà un po meglio il prezzo quindi questa secondo me è la tabella da fare si possono selezionare in free finance pro tutti questi elementi per poi farsi la propria selezione come si fa step 1 scarico tutti i maxi coupon da cedla pro 2 elimino tutti i certificati con maxi premio e quindi con premio successivo inferiore al 10 per cento sempre tramite excel di cedla pro step 3 inserisco yaisin in free finance pro con la procedura guidata quindi solo yaisin e faccio sì 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 quindi pochi secondi step 4 elimino yaisin con premio non maxi alla prossima data di valutazione perché magari c'è un qualcuno che ha un maxi premio a una data di valutazione giorno fa e quindi devo essere troppo veloce magari voglio prendere la decisione con più calma e step 5 analizzare la selezione su free finance pro e su cedla pro quindi me la metto qui dentro a quel punto magari elimino quelli che non mi piacciono e poi clicco sull'eisin e arrivato su cedla pro e vedo esattamente com'è il certificato quindi in questo modo in pochi secondi posso scegliere il maxi coupon chi è abbonato sicuramente ma anche iscritto alla versione free avrà visto già nella sezione novità le novità della piattaforma ma vi segnalo alcune novità che secondo me sono interessanti in particolare nella sezione tutti i sottostanti del portafoglio quindi non quella dove andiamo a vedere i worst off quindi analisi dei sottostanti tutti i sottostanti del portafoglio dove vediamo tutti i sottostanti che sono all'interno dei basket anche se non sono worst off quando clicco su un particolare sottostante mi dice anche il buffer dalla barriera capitale di quel sottostante mi dice anche qual è il sottostante che ho selezionato almeno non mi sbaglio quindi per esempio se io sono tanto esposta ad esempio su unicredit in quel caso però posso vedere che sì sono tanto esposta su unicredit ma il mio buffer a barriera è meno 72 meno 69 meno 64 meno 66 meno 67 meno 55 e allora a quel punto dico sì sono esposta ma non così tanto e quindi questa è una cosa da guardare perché per esempio magari siamo esposti su alcuni sottostanti di più di altri proprio perché i buffer a barriera non sono poi così ampi tra l'altro abbiamo introdotto il nuovo grafico della sezione home page che va a misurare appunto il profit accumulativo del portafoglio nel tempo quindi analizzando anche tutti i prezzi dei certificati storici quindi questo è un ulteriore elemento di analisi inoltre abbiamo introdotto alcune variabili ne stiamo per introdurre altre sui certificati collable quindi si può in particolare selezionare la collability e quindi vedere se il certificato è collable o auto collable e la prossima data in cui è possibile la collability quindi prossima data di call così come la prossima data di valutazione che è una cosa che io già potevo fare con i certificati auto collable ma non era prevista per i collable quindi questo è sicuramente una cosa che si può fare in più c'è il riepiduco per isin e per operazioni quindi quanti isin e operazioni totali ho aperte chiuse e scadute quindi c'è un po di tutto ci sono parecchie novità vi volevo ricordare che l'otto aprile lunedì alle ore 16 abbiamo un webinar in occasione dell'evento online you finance che è un evento a cui partecipiamo tutti gli anni dove appunto c'è un percorso formativo con tanti webinar di tanti diversi relatori il nostro appunto l'otto aprile alle ore 16 nel webinar parleremo proprio di come avere un portafoglio con l'obiettivo di un 10 per cento annuo che è generalmente il mio obiettivo un pochino di più del 10 per cento anno però ce lo possiamo far far andare bene se abbassiamo il livello di rischio che secondo me è un è un obiettivo che dovrebbe guidare noi investitori quindi quello di fare più performance possibile in modo tale da dover essere a mercato investire il meno tempo possibile quindi poter andare in pensione prima o magari appunto utilizzare il flusso cedolare o comunque i rendimenti per fare qualcos'altro quindi non solo investire ma magari anche per consumare quindi andare in vacanza o appunto pagare una spesa specifica quindi l'idea è capire come costruire un portafoglio di questo tipo sia in obbligazioni che in certificati e come evitare alcuni errori che vengono fatti poi sia da investitori neofiti che investitori professionisti e quali possono essere le strategie più interessanti da applicare in più vi anticipo che il 16 e 17 maggio a rimini ci sarà proprio l'evento fisico di ufinance e qui stiamo organizzando una bellissima conferenza super richiesta direi perché effettivamente è da tanto che mi chiedete questo tipo di conferenza e ve la dirò a tempo debito però sicuramente questa sarà una bella occasione anche in cui vederci quindi 16 e 17 maggio speriamo che sarà anche bel tempo almeno si sta benissimo a rimini grazie a tutti ovviamente se vi è piaciuto questo webinar vi ricordo di mettere like sul canale youtube e iscrivervi così ogni volta che pubblico anche un nuovo video e un nuovo contenuto ricevete poi una notifica grazie a tutti come sempre anche per i diversi complimenti che vedo all'interno della chat buona giornata e appunto ci vediamo la prossima settimana lunedì 8 per il webinar con gli ufinance grazie a tutti